Fino a qualche mese fa questo quartiere, oltre alla Saronnese, di Legnano ma stretto tra Castellanza e l'autostrada, non era molto preso in considerazione. Da oggi però le cose sono un po' cambiate, perché l'amministrazione ha ridisegnato l'ordinamento delle consulte, per cui anche questo quartiere finalmente avrà una rappresentanza. E questo significa che non sarà più compreso tra le altre rappresentanze del quartiere dell'Olmina o della Saronnese, ma avrà proprio un suo spazio personale.